5G Come ipotizzato da molti, I primi a utilizzare connettività 5G-SA saranno i fornitori di soluzioni di accesso a internet di tipo FWA, Fixed Wireless Access così. In occasione dell'MWC di Barcellona, FastWeb e Qualcomm hanno annunciato che collaboreranno per portare le connessioni FWA-5G-SA in Italia entro fine 2022. L'obiettivo è quello di fornire connessioni wireless usando un'implementazione 5G completamente indipendente. Servendosi dei modem 5G Qualcomm Snapdragon X65 e X62 FastWeb potrà assicurare ai suoi abbonati FWA una larghezza di banda fino a un GBPS in modalità wireless con una latenza paragonabile alle migliori connessioni in fibra ottica. Il servizio sarà messo a disposizione sia della clientela commerciale che privata residenziale. Per fornire le prestazioni migliori possibile la connettività FWA di FastWeb su 5G-SA utilizzerà le frequenze sulla banda dei 26 GHz. Quando il Ministero dello Sviluppo Economico promosse i vari bandi per l'assegnazione delle frequenze in licenza agli operatori di telecomunicazioni lo spettro 26,5-27,5 GHz fu quello che suscitò minore interesse. Perché? Perché è maggiormente vulnerabile alla presenza di ostacoli pur consentendo di allestire collegamenti radio-ultraperformanti tra antenne. In perfetta visibilità ottica si parla di onde millimetriche o mvave, in realtà, a stretto rigore, sui 26 GHz si ha una lunghezza d'onda di poco superiore a un centimetro. Le caratteristiche del 5G-SA consentiranno anche l'uso del network slicing ovvero un'efficace gestione e ripartizione tra i clienti delle risorse disponibili garantendo la capacità di ogni singolo collegamento di rete.